e lo salve a tutti oggi vedremo come applicare la visiera pinlock al nostro casco questo perché perché spesso soprattutto nel periodo invernale quando utilizziamo lo scooter la moto il vetro del casco tende ad appannarsi e quindi è molto pericoloso per chi guida e anche per le persone che ci sono intorno io ho comprato diversi spray anti appannamento però non sono stati mai non hanno mai funzionato bene allora ho deciso di acquistare questa visiera pinlock da applicare all'interno della visiera del casco quindi andiamo a vedere come si applica innanzitutto dobbiamo rimuovere la visiera del casco nel mio caso è un casco ls2 quindi dobbiamo spiangiare i fermi mettiamo il casco da parte e teniamo la nostra visiera la visiera al suo interno ha dei fermi uno è qui un altro è qui su questi fermi ma posizionata tra questi due fermi va posizionata la visiera pinlock in modo tale che viene applicata in modo preciso orizzontale la prima operazione da fare è quella di andare a pulire la parte interna della visiera con un pochino di acqua in modo tale che evitiamo che ci siano di tate o qualsiasi altra forma di sporci se la andiamo a rimuovere dopo che l'abbiamo lavato dobbiamo asciugarlo asciugiamo la visiera non andiamo a toccarla nella parte interna allora apriamo la confezione con la nostra visiera pinlock questa è la visiera pinlock nella parte che va incollata all'interno è dove c'è questa striscia di silicone allora poi se volete in questo caso ci sono anche le istruzioni di montaggio e manutenzione della visiera pinlock adesso prendiamo la nostra visiera pinlock e dobbiamo andare a montare sul nostro casco sulla visiera del casco allora dobbiamo far aderire questi attacchi sui fermi in questo caso una volta che vediamo che è aderito passiamo col dito sul silicone in modo tale che verifichiamo che l'aria che è stata catturata tra la visiera pinlock e la visiera normale non esca al fuori dopodiché andiamo a rimuovere la pellicola ecco fatto come vedete aderisce bene l'inserto della visiera pinlock nel fermo della visiera originale da entrambe le parti adesso la visiera è pronta dobbiamo semplicemente rimontarla sul nostro casco il procedimento ovviamente è quello inverso che abbiamo utilizzato rispetto alla fase di montaggio e quindi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.